L'indiscrezione lanciata ieri dal quotidiano La Sicilia con un articolo a firma del collega Gianni Stornello potrebbe essere confermata nelle prossime ore. Ci riferiamo al possibile incarico in Vaticano per il Vescovo di noto Monsignor Antonio Stagliano. Ci sarebbero infatti ulteriori elementi che confermerebbero questa strada. Monsignor Antonio Stagliano, Vescovo di noto dal 2009, potrebbe essere nominato presidente della Pontificia Accademia di Teologia, un incarico prestigioso che lo allontanerà dalla Diocesi. Ed è un paio di settimane che da Roma arriva voce di questa possibilità, da quando cioè ci sarebbe stato un primo approccio con Papa Francesco nel corso di un incontro con i Vescovi. Il Santo Padre, apprezzando un intervento di Monsignor Antonio Stagliano, gli lanciò un segnale di grande ammirazione. Il Vescovo di noto Stagliano è considerato l'inventore della pop theology. La sua straordinaria passione per la musica e le sue varie declinazioni lo porta spesso a tradurre le nomelie appassionate, al punto di farne una peculiarità del suo spessore teologico e filosofico. Intanto attendiamo. La chiamata in Vaticano è comunque certa, mentre per l'incarico ufficiale aspettiamo qualche altro giorno.